torna stasera su rai 1 è arrivata la felicità con la seconda stagione la serie televisiva che vede protagonisti claudio santa maria e claudia pandolfi nei ruoli di orlando mieli e angelica camilli sicuramente una serie televisiva che aveva lasciato grande curiosità al pubblico italiano che l'aspettava con ansia siamo qui con federica decola e volevamo appunto sapere cosa ci dobbiamo aspettare per questa nuova stagione e dove vedrai la prima puntata di stasera da queste stagioni ci dobbiamo aspettare tante sorprese coraggio determinazione e l'amore che vince su tutto la vedrò a casa con la con la mia famiglia e qualche amico federica sei soddisfatta di come è stata fatta la serie ma spero che lo siano ancora di più gli spettatori e spero di godermi questa serie insieme a loro ringraziamo federica decola per essere stata con noi e vi auguriamo buona visione stasera torna è arrivata la felicità 2 su rai 1